Ah, sì, oh, è una cosa di moda, oh, i giudini della chiesa, oh, ma chi è presente? Quante cose, il microfono e niente, è il mio corso di una cosa solamente. Quante cose, il microfono e niente, è il mio corso di una cosa solamente. Oh, mamma, com'è te qua, c'è il microfono di me da molti, e poi è successo. Oh, mamma, com'è te qua, c'è il microfono. Grazie per la visione!